Qual è il messaggio o di esoto che vorresti condividere con il tuo pubblico? Il messaggio è quello di non dimenticare, infatti lo spettacolo si conclude con questa frase e non dimentichiamo in dialetto, in lingua istriana, proprio perché ci sono pezzi di storia che ultimamente sono stati riscoperti, in questo caso l'esodo degli italiani dall'Istria, da fiume della Dalmazia, quindi più che un risarcimento economico, come dicevo ai ragazzi, la cosa importante è risarcire le persone che hanno sofferto questa tragedia attraverso il ricordo, attraverso la memoria. Chi è il diverso oggi? Tutti noi siamo diversi, ognuno di noi è un piccolo capolavoro, è unico, è ripetibile, quindi in questo secondo me sta il miracolo della nostra esistenza, della vita, cioè il fatto che veramente non esiste un altro uguale a noi. Poi se parliamo di diversità, di disabilità, di handicap è un altro discorso, nel senso che lì abbiamo veramente una missione, dobbiamo essere solidali con le persone meno fortunate di noi e non dobbiamo mai abbandonarli. Abbi cura di me, la mia canzone parla anche di questo. Oggi è San Valentino, cosa significa amare per Simone Cristicchi? Innanzitutto bisognerebbe amare se stessi, perché se non si ama la nostra anima, la nostra fragilità, anche la nostra debolezza e non riusciamo poi ad amare qualcun altro. Quindi il lavoro, l'amore va fatto prima sulla propria interiorità. In generale l'amore muove il mondo alle altre stelle, come diceva Dante, quindi è il motore di tutto, il motore universale e grazie all'amore noi possiamo davvero influire e cambiare la realtà. Grazie a tutti.